in questo video vi faremo vedere come fare gli acquisti online per la vostra imbarcazione in pochissimi passi incominciamo con lo scrivere l'indirizzo dello store online shop punto adria ship punto it ed entriamo nelle commerce dell'adria ship a la nostra sinistra troviamo le categorie che sono le seguenti ancoraggio e dormeggio pulizia e manutenzione equipaggiamento elettrico elan ferramenta gommone vela carbonautica sicurezza idraulica e sanitari accessori di coperta accessori motore strumenti per navigazione scalette passerelle supporto motore oggettistica e arredo si bung scegliamo una categoria a caso carbonautica diamo click su carbonautica e ci compare tutto quello tutti i prodotti presenti nella categoria carbonautica a questo punto io scelgo uno a caso scegliendolo viene messo nel viene aperto c'è una breve descrizione del tutto e il prezzo se è di mio gradimento clicco su aggiungi al carello qui posso aumentare con le freccette posso aumentare le quantità ecco però mettiamo il caso che io non abbia finito qui l'ordine e voglio continuare a fare i miei acquisti quindi clicco su continua lo shopping e ritorno sul sull'home page dove ero prima e qui posso aggiungere qualsiasi altro prodotto di mio interesse continuare la navigazione nel frattempo vedremo che nel mio carello qui in alto c'è scritto carello un pezzo 7 99 che è esattamente la passerella che abbiamo appena messo nel carello possiamo scegliere qualcos'altro per esempio mettiamo si bung stesso procedimento scelgo qui mi si apre uno solo perché c'è solo un si bung e solo un modello però qua mi compaiono le varianti perché posso acquistarne 1 2 oppure 5 con delle modalità di sconto qui più mi acquisto più ho lo sconto mi lasciamo lo stesso quantità 1 aggiungi al carello e qui ritorno nel mio carello e trovo i due prodotti che io ho messo nel carello infatti qua sopra vedete carello quantità 2 e il totale provvisorio mettiamo che sia tutto io abbia finito e voglio procedere con l'acquisto vero e proprio clicco procedi con l'acquisto qui mi si apre un'altra pagina dove c'è registrazione entra come utente registrato quindi faccio tutta la registrazione con la mia email mi scelgo la password e posso continuare oppure check out come guest ossia metto la mia email e non occorre tutta la registrazione mettiamo la mia email adriaship.it e faccio continua sono arrivata a procedi con l'acquisto punto numero 1 indirizzo qua posso scegliere se volere scontrino o se mi serve la fattura allora se voglio lo scontrino compilo i dati se invece ho necessità di ricevere la fattura faccio richiesta fattura e qua mi vengono aggiunte ulteriori dati come il nome della società a cui deve essere fatturato oppure a me personalmente la partita iva e il codice fiscale lasciamo scontrino nome mettiamo adria cognome indirizzo testata mosconi indirizzo un secondo me città grado gorizia cap 3 4 0 7 3 telefono 0 4 3 1 8 3 5 0 4 indirizzo di spedizione se l'indirizzo di spedizione corrisponde all'altro indirizzo dello scontrino o della fattura basta lasciarlo spuntato se invece vorrei che la roba arrivasse presso il mio marina dal mio marinaio a casa di mia sorella di mio fratello o in ufficio o qualcos'altro basta che tolgo il flag da stesso indirizzo e mi viene indirizzo spedizione e devo ricompilare tutti i dati obbligatori con l'asterisco noi in questo caso lascio l'indirizzo di spedizione uguale salvo e continua ecco consegna qui posso la spedizione mi arriva gls gorizia provincia gls gorizia provincia su appuntamento perché posso scegliere anche di avere fare l'appuntamento col corriere ma per avere determinati orari di consegna in ca è ovviamente il costo è superiore in caso di pagamento in contrassegno verranno adebitate ulteriori 31 euro allora io noi scegliamo gorizia provincia cioè il metodo di spedizione tradizionale salva e continua ecco pagamento allora qui ho riassunto il totale degli articoli il totale di quello che ho acquistato io la spedizione quanto il costo della spedizione il totale che andrò a pagare effettivamente posso pagare con bonifico bancario paypal contrassegno carta di credito adesso noi scegliamo bonifico bancario anticipato clicchiamo salva e continua e ci arriva la conferma l'ordine è stato completato con successo ordine numero e via dicendo e tutto quanto dopo questo ci arriverà direttamente sulla nostra email quella con la quale siamo entrati il riassunto di tutto con le coordinate bancarie dove poter effettuare il bonifico e tutto quanto e tutto